In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, prima di entrare nel dettaglio delle previsioni meteo di questo fine settimana, vogliamo aggiornare i telespettatori di Cilento Channel sulla situazione attuale del tempo? La depressione a carattere freddo che nei giorni scorsi ha interessato la nostra regione si è allontanata verso la Grecia, consentendo un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il territorio, ma un nuovo vortice depressionario è in arrivo dalla Spagna, anche se frenato da un campo di alta pressione presente sul Mediterraneo orientale. Una situazione anomale per il periodo in corso, quella che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni, soprattutto per quanto riguarda il campo termico. L'anomalia riguarda la persistenza di temperature al di sotto della media, fino a 7-8 gradi centigradi. Per farsi un'idea, per ritrovare una media delle temperature registrate nei primi 15 giorni di questo mese, bisogna andare indietro di 80 anni. Dunque, un evento eccezionale sì, ma non è che non si è mai verificato nella storia meteoclimatica. Come sarà invece il tempo previsto per le giornate di sabato 18 maggio e domenica 19? Per domani, sabato 18 maggio, avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, a parte la formazione di nubi bassi al primo mattino lungo la costa e nelle aree a ridosso dei rilievi. Temperature in ulteriore aumento, pur restando su valori lievemente al di sotto della media del periodo. Venti deboli meridionali e mare poco mosso. Per domenica 19 cielo poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio sera, con possibilità di precipitazioni ad iniziare dalle aree costiere. Precipitazioni in intensificazione nel corso della notte, temperature in diminuzione dal pomeriggio, venti deboli a moderati occidentali e mare da poco mosso a mosso. E sulla tendenza della prossima settimana, che cosa puoi dirci? Lunedì ancora condizioni di instabilità con precipitazioni sparse in un contesto termico al di sotto della media del periodo. Tra martedì e mercoledì la situazione tenderà a migliorare, ma al momento non si intravede ristaurarsi sul Mediterraneo di una solida figura anticiclonica che possa garantire condizioni di stabilità duratura. Per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it